E' qua, più forte di sempre, i miei consiglieri regionali, il gruppo più giovane di tutta la storia dell'Emilia, il gruppo che sta facendo il culo a Bonacini Rossi. Abbiamo ottenuto la residenzialità storica in Emilia per coloro che vogliono le case. Abbiamo depositato per primi la legge sulla tassazione della prostituzione in attesa del referendum sulla legge Merlin. Noi, gli emiliani, i primi a sfondare il muro del PD, sempre più forti, sempre più attivi, sempre più cattivi, i miei consiglieri, Sbargi Stefano di Modena, Marchetti Daniele di Bologna, Gabriele Del Monte di Reggio, il capogruppo Alan Fabri di Ferrara. Manca il ragazzino, il più giovane degli eletti di Piacenza, Matteo Rancan, impegnato per un'altra questione personale. Ma abbiamo con noi, e sono orgoglioso di avere qui il mio sindaco del mio paese, il sindaco più giovane d'Italia, Tommaso Fiazza. Grazie ragazzi, grazie a tutti e a una pontida l'anno prossimo ancora più verde per l'Emilia con nuove leggi che proporremo fino a quando l'Emilia e la Romagna non diventeranno verdi e tutti questi comunisti che hanno fatto del male alla nostra terra. Qui abbiamo Alan, che è stato sindaco di un paese terremotato, ancora ha la gente fuori di casa per dare lo spazio ai marocchini, agli extracomunitari, candestini. Basta! Vi mandiamo a casa tutti! Ciao!